ciao a tutti canale di paulino 1 oggi interessantissimo versus tra l'iphone 5 di apple e il galaxy s3 di samsung partiamo subito con le filosofie opposte ma molto belle della ergonomia quindi del form factor delle linee di questi due bellissimi smartphone top gamma del momento ancora iphone 5 peso 112 grammi solamente vedete queste linee molto essenziali senza spigolature quindi molto bello piacevoli con dei materiali veramente pregiati adesso qua abbiamo applicato la nostra bella custodia da 3,5 mm sottilissima che lo protegge e la consiglio a tutti perché sono molto leggeri sembra di non averle sono piacevoli al tatto comunque diciamo appunto ben costruito ben assemblato conosciamo tutti apple come come cura molto bene i materiali dei suoi smartphone quindi diciamo che sia dal punto di vista estetico è bellissimo sia dal punto di vista del peso e dei materiali siamo veramente al top da questa parte samsung invece ci propone un bellissimo policarbonato qua dietro molto resistente lucido bello un bellissimo design anche qua solamente 133 grammi di peso perché uno smartphone molto più grande rispetto e generoso dimensione rispetto iphone 5 ma nonostante questo ci sono solo 20 grammi di differenza quindi un lavoro di ottimizzazione del peso forse grazie a questi materiali in policarbonato mentre qua ovviamente avendo alluminio e vetri vetro e alluminio abbiamo sicuramente anche qua vetro e policarbonato abbiamo sicuramente un peso maggiore però sotto questo punto di vista sia dal punto di vista del peso e della linea diciamo dell'estetica li metterei sullo stesso livello perché bellissimo anche l'iphone 5 con le sue linee essenziali veramente il suo peso contenuto ma bellissimo anche sia l'estetica del galaxy s3 con un peso nonostante le dimensioni più generose veramente contenuto quindi sul peso e estetica se la giocano alla pari invece per quanto riguarda i materiali assolutamente iphone 5 un punto di vantaggio sicuro perché i materiali sicuramente ancora più nobili alluminio e varie altre leghe di metallo che sono state utilizzate per appunto assemblare iphone 5 sono molto più pregiate del policarbonato che pone un buonissimo materiale resistente del galaxy s3 quindi galaxy s3 deve samsung in futuro aggiungere qualche pregiatura in più ai suoi materiali per poter competere a livello di materiali andiamo invece sulle caratteristiche tecniche per quanto riguarda gli schermi qui abbiamo un 4 pollici a 1136 pixel per 640 retina display per quanto riguarda apple quindi noi sappiamo che apple ha tutta una sua filosofia anche per gli schermi a questa risoluzione 640 per 1136 con 336 ppi quindi densità per pixel mentre da questa parte abbiamo un 4 e 8 pollici 1280 per 720 risoluzione hd con 306 ppi per densità per pollice quindi anche qui risoluzione più elevata per quanto riguarda samsung mentre meno ppi più ppi per apple e risoluzione leggermente inferiore ma retina dopo andremo a vedere nel dettaglio gli schermi le due batterie sotto la scocca questa integrata da 1440 miliampere qui invece samsung ci abbiamo una 2100 miliampere invece rimovibile perché questo qui è un appunto cellulare senza batteria integrata mentre come sappiamo apple ce l'ha integrata autonomia l'autonomia sicuramente a vantaggio del galaxy s3 che riesce a coprire nettamente soprattutto rispetto al galaxy s2 è stato implementata veramente bene e ottimizzato meglio il il sistema operativo con lo smartphone perché riusciamo a coprire abbondantemente e bene la nostra giornata ad uso medio intenso mentre ancora pecca apple sull'autonomia perché pur migliorando il 4s c'è un sensibile miglioramento ma non copriamo assolutamente la giornata usando l'intensamente mail notifiche sempre attive navigazione col gps eccetera eccetera arriviamo al primo pomeriggio tardo pomeriggio proprio nei casi più fortunati dovremmo già ricaricarlo la s3 invece ci garantisce la giornata pienamente quindi da questo punto di vista vince galaxy s3 quindi un punto in più sull'autonomia la do ha assolutamente vantaggio del galaxy s3 allora per quanto riguarda invece la connettività sono tutti e due veramente bluetooth ultima versione wifi ovviamente bgn ovviamente barometro accelerometro giroscopi tutti i sensori presenti sia di luminosità sia di prossimità hanno due fotocamere da 8 megapixel entrambi con possono girare tutti e due video in full hd qui non sono impostabili qui la risoluzione sia di foto e video invece è personalizzabile android più aperto e si sa ios più chiuso per quanto riguarda le fotocamere frontali 1.9 megapixel per samsung e 1.3 megapixel per apple quindi dal punto di vista diciamo fotocamera come potenza diciamo e risoluzione fotocamera videocamera sono alla pari leggermente più risoluta la fotocamera frontale di samsung ma io per una leggera differenza così non mi sento di dare un vantaggio nessuno di due li metto sullo stesso livello anche per quanto riguarda fotocamera videocamera dopo vedremo nello specifico invece video e foto ovviamente due connottore lighting per la ricarica qui micro usb standard europeo mentre apple ha degli adattatori andiamo a vedere i display come dicevamo vedete due filosofie diverse dicevamo molto simili la touch width diversa di samsung vedete fluidità subito si vede andiamo nel menu della dell's3 sono veramente sullo stesso la giocano qui c'è nova come launcher installato vedete samsung vedete apple veramente la fluidità è a la pari e alla pari sicuramente tutti e due molto veloci processore exinox ovviamente per quanto riguarda da 1400 megahertz per quanto riguarda samsung con un giga di ram 1300 megahertz a 6 il chip di processore che monta con un giga di ram che monta il la apple anche qui velocità e fluidità del sistema operativo se la giocano tranquillamente alla pari perché fanno tutto alla massima velocità e lavorano benissimo con le applicazioni con la ram alla massima velocità disponibile e sono ottimizzati benissimo per funzionare a velocità massima non ci sono impuntamenti in nessuno dei due casi raramente vanno in crash quindi devo dire molto affidati adesso con le ultime versioni dei software poi ovviamente sono resi più stabili più affidabili chiaramente tutte e due quindi anche questo poi ha migliorato ulteriormente l'ottimizzazione del sistema operativo quindi anche qui mi sento di metterla a pare per quanto riguarda la chiamata proviamo prima a fare una chiamata magari al 139 con l'iPhone viva voce così facciamo un paragone ecco le soglie le vediamo dopo una chiamata al 139 anche con il Galaxy S3 ho disattivato i toni dei tasti ma queste sono mie personalizzazioni ognuno poi può fare come meglio crede anche qua viva voce e volume al massimo benvenuto in 3 questa chiamata è gratuita si chiama da numero 3 o da rete fissa Telecom Italia se hai già cliente 3 business e desidera parlare con un operatore per quanto mi riguarda direi che iPhone è leggermente più alto come volume però forse meno gracchiante il volume del Galaxy S3 non è che quello di iPhone voi non commentatemi male questo discorso nei commenti non è che l'audio di iPhone in chiamata sia gracchiante leggermente più sparato ecco mentre più contenuto ma forse leggermente più cupo quindi più piacevole da sentire quello di Galaxy S3 secondo me comunque sono sullo stesso livello anche qua non c'è una differenza netta nell'audio in chiamata quindi li metterei alla pare invece per quanto riguarda la messaggistica classica trastiera di Apple molto bella facile da scrivere velocissima con correttore automatico ovviamente di tutte le parole quando vogliamo si sa scrivere con Apple anche se facciamo vogliamo scrivere così scriviamo ciao ci trova così se vogliamo scrivere ciao comunque lui ha già capito che vogliamo scrivere ciao nessun impuntamento veloce la conosciamo è una tastiera di riferimento diciamo no? anche ovviamente accelerometro presente anche come scrittura con 4 pollici 9 iPhone 5 ci consente comunque di avere un ottimo feedback di utilizzo con la tastiera per quanto riguarda invece il nostro bel Galaxy S3 bellissimo lo andiamo a vedere per esempio apriamo un whatsapp e mettiamo di scrivere un messaggio noi vedete anche qua sia molto comoda e comunque con i 4 8 pollici riusciamo a scrivere nessun impuntamento velocissima quindi direi che se la giocano anche qua abbastanza la pari una cosa che mi piace di più però della tastiera di Android che io adoro è questo tipo di scrittura alla swipe ecco io mi trovo benissimo è molto veloce infatti vedete se volete scrivere ciao l'ha già trovato come state vedete è veramente veloce e si riesce a scrivere strisciando strisciando velocemente le dita io quindi da questo punto di vista lo swipe diciamo di Galaxy S3 lo preferisco mentre per quanto riguarda la tastiera molto performante di iPhone è un piacere scrivere e avere un correttore così preciso qui correttore di parole sicuramente più performante di iPhone ma la swipe e la velocità anche della tastiera di Galaxy S3 sono ottimali quindi sullo stesso livello anche per quanto riguarda la messaggistica per quanto riguarda invece foto e video vediamo cosa abbiamo potuto girare qua abbiamo fatto delle fotografie vi faccio vedere questa è una fotografia con un bel paesaggio nevoso vedete con l'iPhone 5 ce ne sono due questa è un pochino più da vicino vedete cerco di mettere a fuoco poi è stato girato un video in full HD ecco questo qui era il video che sono riuscito a girare anche con Galaxy S3 ovviamente abbiamo questa possibilità abbiamo fatto le cose per bene quindi andiamo nella galleria e andiamo a trovare quello che abbiamo fatto oggi così riusciamo ovviamente ogni tanto arriva qualche email qualche notifica non preoccupatevi non esplode il telefono queste sono le foto fatte con Galaxy S3 lascio giudicare a voi poi vi dirò la mia questo è il video in full HD girato volume al massimo video full HD per il canale tepolino 1 comparazione con l'iPhone 5 allora per quanto riguarda video e foto ci sono un punto a favore di uno e un punto a favore dell'altro intanto l'audio nei video mi sembra un po' più alto quello del Galaxy S3 ma non è tanto quello che mi interessa sicuramente a mio modo di vedere il video li gira leggermente meglio l'iPhone mentre le foto le fa un pochino meglio il Galaxy S3 nel senso io ho riscontrato nel vedere le immagini delle due fotografie scattate leggermente una definizione migliore di quella del Galaxy S3 magari casuale magari all'esposizione ne ho provate anche altre volte altre ho sempre piuttosto impressione mentre il video mi sembra un pochino più fluido ma leggermente io dico che ci sono degli scatti, dei micro scatti ogni tanto in quello del Galaxy S3 si vedono quindi direi che alla fine se la giocano alla pari uno sulle foto, uno sui video tutti e due comunque di ottima qualità sia nelle foto sia nei video led di stato ovviamente per le notifiche perse per Galaxy S3 cosa che purtroppo su Apple ancora sappiamo non esserci ovviamente differenze dei sistemi operativi le conoscete qua a gusti perché è molto chiusa iOS nelle sue applicazioni, nel suo mondo più aperto Android ha anche l'applicazione di terze parti e più utilizzabile usabilità massima per quanto riguarda diverse praticità ma anche ottima usabilità ma soprattutto più possibilità di installazione di programmi di terze parti e di aggiornamenti di applicazioni esterne per quanto riguarda Android quindi chi vuole un sistema operativo a 360 gradi più usabile andrà a 360 gradi più aperto andrà su Android chi lo vuole la massima usabilità e immediatezza è un mondo tutto a sé come va su iOS comunque sappiamo già come sono le due filosofie diciamo delle due case produttrici che sono diverse ma poi ognuno con la sua filosofia tenta di trarre il massimo dei suoi dispositivi connettività, HSDPA ovviamente HSUPA, HSDPA per quanto riguarda Samsung fino a 42 megabit sulle reti veloci quindi HSDPA più in upload a 576 mentre fino a 42 megabit per secondo in download e con HSPPA più e 576 in upload per quanto riguarda l'UMTS 3G di Apple ma Apple è anche LTE cosa che Samsung non è quindi qui possiamo arrivare a potenze nominali fino a 100 megabit per seconda e 50 megabit in upload mentre qua rimaniamo nella HSDPA fino a 42 megabit massimo quindi più potente e già pronto per le reti LTE iPhone mentre per quanto riguarda il Galaxy S3 c'è una versione venduta in Germania da 64 giga già LTE quindi volendo si può trovare anche il Galaxy S3 LTE versioni 16, 32, 64 giga per iPhone 16, 32 e anche una versione LTE adesso e 64 giga per Samsung quindi anche qui siamo arrivati a equivalerci sia sulle versioni che sui gigabyte disponibili quindi tutte e due velocissime dal punto di vista anche delle reti internet NFC presente per quanto riguarda il Galaxy S3 mentre iPhone non ha il tag NFC e questa è una mancanza che spero che nell'iPhone 6 venga integrato nell'iPhone 5S perché è un po' pesa perché aver messo l'LTE non l'NFC non ha molto senso era meglio implementarlo mentre integrato non come il Note 2 nella scocca ma dentro il telefono la tag NFC per quanto riguarda Samsung io penso di avervi detto tutto quello che potevo dirvi un'altra cosa DLNA ovviamente per poter condividere con tutti i TV e tutti i dispositivi che si vuole on the air la connettività per quanto riguarda Samsung mentre nel DLNA nell'iPhone non è presente anche questo spero venga implementato perché è una mancanza fastidiosa anche se non è una cosa molto ancora utilizzata però può servire tiriamo le conclusioni su questi due bellissimi dispositivi beh tendo a precisare che non sono un fanboy di nessuna delle due sono un tecno fan, un appassionato come voi lo sapete di nessuna delle due fazioni è un commento molto difficile perché poi so che si scatenerà la solita bagarta chi preferisce Apple, chi preferisce Samsung allora secondo me sono due grandissimi smartphone costruiti bene con i pregi e con i difetti che ognuno dei due può avere ma sicuramente sono il top del mercato bellissimi molto veloci, molto potenti ci fanno godere appena la tecnologia attuale è solamente una scelta di gusti e chi vuole un sistema operativo più usabile quindi usabilità è sempre il top su iPhone quindi usabilissimo, velocissimo, pronto subito da poter usare e facile va più su iPhone è un circuito più chiuso chi vuole un sistema operativo più aperto con applicazioni di terze parti installabili a 360 gradi più diciamo leggermente meno usabile ma non che non ci sia l'usabilità c'è anche su Android l'usabilità che comunque è molto migliorata va sicuramente sul Galaxy S3 io se dovessi scegliere sinceramente me li prenderei tutti e due stavolta non farei sparire nessuno dei due mentre con il Note 2 ho fatto sparire l'iPhone quindi direi che sicuramente entrambi sono come ho fatto io la scelta migliore ma se proprio uno deve fare una scelta la deve fare in base ai suoi gusti io oggi come oggi se dovessi tenere uno dei due terrei il Galaxy S3 per il semplice motivo che ha uno schermo più ampio sicuramente è un sistema operativo meno chiuso quindi sicuramente diciamo questa possibilità in più che mi dà di avere uno schermo comunque da 4-8 pollici molto godibile e sicuramente anche la possibilità che mi dà di avere un sistema operativo più aperto anche per l'uso business mi conviene ma è solamente per una scelta mia personale per quanto riguarda i miei gusti un punticino in più diciamo per il Galaxy S3 sicuramente che è un grandissimo smartphone forse l'unico che è riuscito a pareggiare se non a superare come nel caso diciamo adesso del mio gusto personale l'iPhone l'ultima cosa volevo farvi vedere da vicino forse la definizione del display sono tutte e due veramente eccezionali vedete anche qui i caratteri sembrano stampati vedete la definizione HD del retina display non ce l'ha nessuno diciamo come proprio sulle icone diciamo è proprio una cosa impercettibile non ha nessun pixel sub pixel che si possa vedere mentre per quanto riguarda Galaxy S3 è incredibile anche questo come schermo è un pentai ma ha una definizione veramente che i caratteri sembrano stampati anche qua faccio fatica nonostante siamo retina a dire che c'è una differenza vedete voi io preferisco lo schermo forse quello del Galaxy S3 perché è più grande nonostante sia grande ha una risoluzione veramente pazzesca quindi entrambi bellissimi forse come definizione pura delle icone e delle immagini è più piacevole da vedere l'iPhone ma a 360 gradi il Galaxy S3 diciamo che sono alla pari dai anche qua eccoci qua da Depolino 1 è tutto grazie per avermi seguito ci vediamo alle prossime e come sempre grazie dell'attenzione ciao eccoci di nuovo qui scusate avevamo dimenticato la prova del browser web ovviamente sono già tutti e due collegati alla linea wifi partiamo subito con una pagina di Virgilio clicchiamo insieme ovviamente la ricerca della pagina così avremo un paragone ovviamente di entrambe le navigazioni sono partiti vedete questa è la ricerca leggermente più veloce nella ricerca forse Galaxy S3 partiamo tutte e due insieme apri apri siamo lì forse qui ho cliccato un po' prima quindi si è aperto prima Galaxy S3 ma siamo lì andiamo alla versione però completa c'è la versione desktop di tutte e due la versione classica di tutte e due le cose apriamo insieme qua cerchiamo di andare alla pari apri rendering leggermente leggerissimamente più veloce sul Galaxy S3 rispetto a vedete pinch to zoom ovviamente tutte e due alla massima velocità neanche a dirlo fluidità estrema forse sul pinch to zoom qualcosa in più iphone 5 ma veramente millimili millesimali microscatti ma neanche direi perché la fluidità è la pari avete pinch to zoom presente alla pari e apertura e pagine velocissime da entrambe le parti l'unica cosa che posso dire è che forse il Galaxy S3 è leggermente più veloce quindi forse la navigazione per la prima volta passa a vantaggio di Samsung per un punto ma tutte e due piacevolissime estremamente usabili nel web quindi diciamo che trovare un vincitore anche sul Barrios Web è difficile sono lì e lì forse nel rendering dell'apertura delle immagini delle JPEG leggermente più veloce forse Galaxy S3 ciao e grazie come sempre e grazie a tutti